Un uomo in viaggio a bordo di un'auto alla ricerca di qualcosa, forse la rifurtiva di una rapina dimenticata. Una donna dalla pelle scura, scaricata e poi inseguita da un piccolo gangster a cui forse ha sottratto qualcosa di grosso. È la trama di Neve, il nuovo film di Stefano Incerti presentato a Napoli. L'uomo, donato, decide di soccorrere la donna Nora e portarla con sé lungo un tratto del suo misterioso percorso. Nora non si allontana mai da donato fino a scoprire le vere ragioni della sua ricerca. La storia dell'incontro casuale di due vite con le spalle al muro come le definisce il regista Stefano Incerti. La storia di due incontri, o meglio di un incontro tra due personaggi che mi piace dire con le spalle al muro, sono in un momento molto delicato della loro vita, entrambi sono alla ricerca del danaro, ognuno per un motivo diverso, lui per un'esigenza alta che scopriremo sulla fine del film e fanno un pezzo di strada assieme. Il freddo che hanno dentro è forse più forte del freddo che c'è fuori. Sullo sfondo, una provincia italiana che si stenta a riconoscere un paesaggio senza luoghi perennemente imbiancato dalla neve, una neve che in qualche modo rispecchia il carattere dei personaggi principali come donato, interpretato da Roberto De Francesco. Donato è un uomo di quelli invisibili, un uomo nel senso che conduce una vita, potrebbe essere un personaggio simenoniano, nella vita apparentemente tranquilla, ma da quando entra in scena nel film, cioè da subito, capiamo che cova dentro un mistero nel silenzio. Grazie.